Buonasera, bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro Tg. Iniziamo il telegiornale con una notizia di cronaca. Da quella che poteva sembrare una modesta attività di spaccio, la squadra mobile di Rimini è riuscita a risalire ad un giro di grossa distribuzione di droga che ha portato ad ottenere dal Tribunale un decreto di sequestro finalizzato alla confisca di tre veicoli di grossa cilindrata e decine di migliaia di euro. Tutto è nato dai tre arresti ai danni di due albanesi e un italiano, il 7 agosto scorso in Viale Vespucci, quando gli agenti hanno sorpresi due stranieri a bordo di un'auto parcheggiata che rifornivano di droga all'italiano. Nell'occasione erano stati ritrovati 14 grammi di cocaina, ma soprattutto 21 mila euro in contanti, nascosti nell'auto. Le indagini sono proseguite per accertare la posizione economico-patrimoniale dei tre ed è emerso che attorno ai due albanesi ruotava una rete di altri soggetti legati allo spaccio. Nei confronti di uno degli arrestati è stato possibile contestare il reato previsto dai provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa e procedere quindi al sequestro dei beni. Nel processo di recupero dei detenuti, i rapporti familiari rivestono un ruolo fondamentale. Per questo motivo il carcere di Rimini si è dotato di una ludoteca che è stata inaugurata proprio oggi, uno spazio per far incontrare padri e figli dove una volta al mese un'educatrice dell'Associazione Madonna della Carità coinvolgerà bambini e genitori con giochi, letture e animazioni. Al taglio del nastro sono intervenuti il vice sindaco Lisi, rappresentanti del centro per le famiglie, del centro di servizio per il volontariato e di che a Rimini che ha donato i mobili. Naturalmente c'era anche chi materialmente gestirà lo spazio, le educatrici. Far vivere un'esperienza che invece potrebbe essere traumatica per un bambino in maniera positiva. Già deve attraversare un percorso per arrivare a colloquiare con il papà che non è facile, è lungo, fatto di controlli, verifiche eccetera. Arriva qui, se vede solo sbarre, un muro bianco e nient'altro così perde la dimensione anche affettiva che deve avere con il detenuto che si trova in carcere, con il proprio papà. Le sbarre sono mascherate dai colori, dai disegni che hanno fatto i ragazzi che si trovano all'interno del carcere e quindi sì, spero sarà un'esperienza positiva per i bimbi che verranno a trovare i genitori. Se si perdono gli affetti familiari si è perso quasi tutto insomma e quindi credo che nella ricostruzione del detenuto sicuramente una tappa fondamentale è quella del mantenere i contatti con i propri cari. Il rinserimento sociale di una persona significa anche costi minori per la collettività perché significa recuperare una persona che ha commesso degli illeciti, dei reati ad una vita sociale normale. E per il direttore Paolo Madonna è stata anche l'occasione per fare il punto della situazione sulla carcere di Rimini spesso alle prese con problemi di sovraffollamento. Rispetto agli anni passati quando avevamo un sovraffollamento io ricordo questo perché sono stato già qui alla circondariale di Rimini nel 1995-96 e c'era soprattutto d'estate un sovraffollamento abnorme insomma noi avevamo molti problemi appunto di contenimento. Quest'anno i problemi sono stati minori perché comunque noi abbiamo il rispetto dei parametri stabiliti dalla SEDU quindi dall'Europa e rispetto agli spazi vitali che sono a disposizione e devono essere messi a disposizione di ogni persona detenuta. Parliamo adesso di viabilità. Giovedì infatti Società Autostrade ha ufficialmente richiesto al Ministero delle Infrastrutture la convocazione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione delle opere di completamento sulla viabilità connesse all'ampliamento della 14. Lo annuncia l'assessore alla mobilità del Comune di Rimini Roberto Biagini in particolare si tratta delle due rotatorie che andranno ad eliminare gli incroci della statale 16 con la consolare per San Marino e con via Coriano a queste si aggiungono anche i due sottopassi e la pista ciclabile nella zona Padulli-Covignano si tratta di uno degli ultimi step prima di arrivare al via libera definitivo commenta l'assessore che auspica tempi rapidi da parte del Ministero per arrivare entro la fine dell'anno a concludere le procedure amministrative come da programma e poi a far partire i cantieri dall'associazione culturale Rimini arriva una fonda gamba tesa alla politica economica del Comune di Rimini definita fallimentare chiave di volta per un'inversione di tendenza secondo l'associazione e la privatizzazione quasi totale di Rimini Fiera vediamo la crisi riminese è colpa della mala gestione da parte dell'amministrazione pubblica rea di essere intervenuta in modo fallimentare in settori imprenditoriali chiave come l'aeroporto e il Palace questo l'attacco che arriva dall'associazione Rimini che oggi ha incontrato la stampa locale per presentare la sua ricetta per uscire da quella che definisce una pericolosa impasse il Comune deve uscire dalla dimensione imprenditoriale e procedere ad un piano di investimenti che rendano la città attrattiva anche per gli investitori che vengono da fuori come? secondo il presidente di Rimini, Bruno Sacchini l'abbandono di una politica consociativa e un oculato piano di dismissioni potrebbero garantire nel medio periodo risorse per 200 milioni di euro e la chiave sarebbe nel gruppo Rimini Fiera cedendo l'80-90% del capitale del sistema fieristico congressuale si potrebbero ottenere 150 milioni mantenendo inalterato l'indotto sul territorio anzi, secondo Rimini, questo potrebbe anche aumentare con un bando che esiga dall'aggiudicatario solidi requisiti economici e patrimoniali e capacità industriali ben diverso da quello ENAC, polemizza l'associazione il percorso di privatizzazione avviato ora per la fiera con la cessione appena del 10% del capitale per Rimini è solo una ristrutturazione del debito finalizzata al ritiro dell'ormai nota lettera di patronage ad unicredit rilasciata dal comune nel 2010 e riferita al mutuo chirografario da 46 milioni e mezzo per la realizzazione del palace un modo per evitare il rischio insolvenza lettera di patronage sulla quale proprio Sacchini e Mario Ferri presidente e vicepresidente di Rimini avevano presentato un esposto alla Corte dei Conti da escludere, sempre secondo l'associazione il matrimonio con Bologna a Rimini Fiera è la migliore realtà del settore in regione e la fusione sarebbe la tomba dell'indotto che ricade sul territorio riminese Taglio del nastro e benedizione oggi all'ex seminario di Rimini per la nuova sede della Casa delle Associazioni 32 quelle ospitate nei nuovi locali all'inaugurazione presenti le istituzioni locali e anche la banda città di Rimini Dalle finestre del quarto piano dell'ex seminario Vescovile nuova sede della Casa delle Associazioni lo sguardo si apre su tutta Rimini una Rimini che non è solo mare e turismo ma anche volontariato l'ultimo censimento Istat ha certificato la presenza in provincia di 1888 attività no profit e 25.300 volontari persone che si mettono a disposizione degli altri senza chiedere nulla alcuni di loro da oggi hanno una nuova casa a Covignano accanto alla Scuola Media Marvelli si tratta di 32 associazioni 8 in più di quelle ospitate nella vecchia sede in centro storico identica l'intitolazione a Giannetto Bracconi che 20 anni fa iniziò insieme ad altri volontari il percorso che ha poi portato alla Casa delle Associazioni qui è un laboratorio di idee di progettazioni, di programmi non solo per noi, per le nostre associazioni che vivono qui ma proprio anche per l'intera collettività del tessuto riminese un patrimonio culturale, sociale un patrimonio di solidarietà, di vicinanza al prossimo e di coesione sociale un patrimonio che aiuta anche a uscire dalla crisi o pensare alla crisi però e viverla in un'ottica di speranza il mondo del volontariato a Rimini è attivo io sono una volontaria da 24 anni di una grossa associazione, della sclerosi multipla e quindi conosco, tasto il terreno da sempre e la gente c'è a voglia di fare io sono referente anche proprio della mia associazione per trovare per i volontari e quando arrivano e capito magari hanno paura di non fare a sufficienza quando gli dici è sufficiente tenere la mano a una persona che non riesce né a camminare né a parlare e le mani gli si raffreddano facilmente tieni quella mano mezz'oretta quando vai a casa ti senti meglio non ci volevano credere ma è così, è così domani alle 17.30 in Basilica Cattedrale a Rimini saranno consacrati tre nuovi sacerdoti si tratta di Don Andrea Scognamiglio il più giovane con i suoi 29 anni della parrocchia riminese di San Gaudenzo del padovano Don Simone Franchin 38 anni arrivato a Rimini per aver incontrato l'associazione Papa Giovanni XXIII e di Don Stefano Battarra 34 anni della parrocchia della Colonnella salgono così a 163 presbiteri diocesani 46 sono i sacerdoti religiosi 39 i diaconi permanenti torna questa sera alle 21 su Icaro TV l'appuntamento con Ticvagli in Trecci della Speranza domani alle 17.30 in Basilica Cattedrale a Rimini saranno consacrati tre nuovi sacerdoti si tratta di Don Andrea Scognamiglio il più giovane con i suoi 29 anni della parrocchia riminese di San Gaudenzo del padovano Don Simone Franchin 38 anni arrivato a Rimini per aver incontrato l'associazione Papa Giovanni XXIII e di Don Stefano Battarra 34 anni della parrocchia della Colonnella salgono così a 163 presbiteri diocesani 46 sono i sacerdoti religiosi 39 i diaconi permanenti torna questa sera alle 21 su Icaro TV l'appuntamento con Ticvagli in Trecci della Speranza la trasmissione prodotta da Icaro Communication in onda sulle emittenti del circuito corallo vediamo un'anticipazione della puntata è una palestra molto speciale quella che cinque ragazzi del canton Ticino in Svizzera ciascuno con problematiche legate alla famiglia la scuola o il lavoro seguiti da due educatori dell'associazione Il Sorgitore si apprestano a vivere a bordo della barca Vela Blitz uno slup monoalbero di quasi 15 metri sei settimane in un viaggio per mare che li porterà a scoprire l'isola d'Elba la Corsica e la Sicilia ma soprattutto li accompagnerà nel tentativo di ritrovare un futuro sereno forse oggi messo in discussione da tante difficoltà e in fondo non così scontato le opportunità arrivano alle volte si manifestano in modo evidente in altre occasioni invece la vita ci impone problemi che possono essere trasformati in opportunità ha portato la propria esperienza di vita a dimostrazione di come a volte gli ostacoli si possano trasformare in opportunità con questo messaggio Alex Zanardi presidente della fondazione Vodafone Italia ha aperto ufficialmente il quarto anno liceale d'eccellenza a Rondine il nuovo progetto dell'associazione Retina si chiama Esoscheletro Robotico e già il nome dice a cosa serva questo nuovo strumento tecnologico arrivato ad ampliare le capacità di intervento dell'ospedale Sacro Cuore di Negrà concepito inizialmente per finalità belliche oggi l'exo, questa la sigla permette a quei pazienti che hanno perso totalmente o parzialmente la facoltà di camminare a causa di lesioni midollari non solo di stare in posizione retta ma anche di deambulare Ho fatto 25 anni restauratore e falegnameria e avendo perso il lavoro ho trovato questo gruppo di amici che mi hanno offerto questa opportunità sono entrato a fare questa opportunità mi piace molto, credo molto nel biologico e per ora si cerca di andare avanti il meglio possibile Luano Biondi è uno dei lavoratori della cooperativa La Quecciola di Quarrata una cooperativa sociale di tipo B cioè finalizzata all'inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate La montagna è il luogo ideale per unire non bisogna vederle come un confine come una barriera deve essere invece un qualcosa che unisce i popoli e al termine di Tikva sempre su Icaro TV andare in onda un nuovo speciale sulla Karatella Race della scorsa settimana a Coriano questa sera di scena le Karatelle dei Bambini questa sera e domani alle 21.30 nella sala Panfili del complesso degli Agostiniani a Rimini andare in scena la prima nazionale di Iperion di Bruno Maderna ideato da Imutai Mago con la partecipazione di Hermes Ensemble e del performer Jonathan Schatz ai primi di dicembre lo spettacolo sarà poi al Teatro Vascello di Roma nell'ambito del Roma Europa Festival domani alla figura di Maderna sarà dedicata una tavola rotonda alle 9 negli spazi dell'Istituto Lettimi abbiamo intervistato questa mattina la regista di Iperion Claudia Sorace questo spettacolo incontra vari linguaggi sicuramente quello musicale perché la musica di Maderna è alla base del lavoro c'è un lavoro performativo molto importante fatto con il danzatore Jonathan Schatz che è il performer in scena e poi sicuramente tutto questo incontro tra la musica e la danza in realtà è restituito con una chiave fortemente teatrale quindi con una struttura drammaturgica piuttosto definita quindi diciamo che incontrerà uno spettacolo che cerca di parlare della figura di questo giovane Iperion un uomo, un ragazzo che cerca se stesso nel mondo utilizzando vari linguaggi concentrandosi attorno alla figura di Iperion attorno al caso umano di Iperion tutto è riuscito a convergere e tutto è tenuto insieme sicuramente grazie soprattutto alla parte musicale Termina domani il nono concorso corale internazionale Città di Rimini tanti paesi rappresentati oltre all'Italia ci sono ad esempio Slovenia, Svizzera, Spagna, Polonia ma anche Stati Uniti e Indonesia tutte le sere alle 21 il Teatro Novelli ospita i concerti dei cori ad ingresso libero peccato evidenziano gli organizzatori in una nota che nonostante Rimini e la provincia avanti in un bel numero di cori tra i partecipanti al concorso non ci sia traccia di formazioni locali e adesso parliamo di calcio un pari esterno oggi per il Sant'Arcangelo impegnato sul campo della Pistoiese partono bene i Clementini che riescono a sfirare il gol nel primo tempo nella ripresa invece devono ringraziare il portiere Nardi capace di parare al 37esimo rigore a Sinigaglia per il Sant'Arcangelo ancora a caccia di vittorie e si tratta del terzo pareggio in campionato seconda vittoria consecutiva invece oggi per il Rimini che supera la Maceratese con un gol arrivato in pieno recupero vediamo il Rimini vuole dare continuità alla vittoria di otto giorni fa sul campo della Lupa Roma al Mazzola in atteso sia pronto e la Neri arriva la Maceratese già superata in Coppa Italia ad Ancona all'ottavo Bariti da destra mette al centro per Lisi che calcia in corsa non trovando il bersaglio al 14esimo schema su punizione della Rimini Marin per Martinelli che colpisce Debole mandando la sfera tra le braccia di Forte al 22esimo Lisi di Tacco per Marin che scende a sinistra guadagna l'enial di fondo poi mette in mezzo un pallone che il ragazzo gira lato al 33esimo sugli sviluppi di un corner la Seicchie impatta di testa sfera lontana dal bersaglio al 35esimo numero sull'out di sinistra di Cuco che dopo diverse finte per schienare imparato la girata del numero due marchigiano si vira lato al 36esimo Lisi recupera palla e lascia partire una fiondata dalla distanza che non crea grattacappia forte un minuto dopo foglia per Carcalis che scodella in mezzo un pallone invitante incornata di Cuco e miracolo di Anacurà che devia in corner al quarto della ripresa cross di Bariti da destra Vilena colpisce di testa verso la sua porta chiamando gli straordinari forte al 27esimo cross di Marine per l'incornata di De La Rocca pallone centrale facile preda di Forte attorno alla mezz'ora Ricchiuti fa filtrare per Ragazzo il cui cross è deviato da Fissore forte ribatte ma l'azione è vanificata da un fuorigioco al 42esimo corner di Mazzocchi Martinelli colpisce di testa sfera oltre la traversa al 50esimo nel minuto aggiuntivo di recupero il gol partita De Martino mette in mezzo per l'incornata vincente di Ragazzo nulla da fare per Forte vince il Rimini 1-0 Rimini al secondo un radifila e con le vittoriose immagini del Rimini si chiude il nostro telegiornale grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata